Che mi venga a dire cosa non può fare la regione, cosa può acquistare, cosa non può acquistare la regione Florianza Giulia, che mi venga a dire che ruba la Corte dei Conti, è veramente francamente ridicolo, ridicolo ed evidentemente dimostra il fatto che è una persona che conosce molto poco della materia. Il riserva a Ring è arrivata la risposta dell'assessore regionale alla sicurezza Pier Paolo Roberti a Gianfranco Schiavone, presidente dell'ICS, in merito alle contestazioni fatte sulla questione fototrappole per controllare i flussi dei migranti tra i confini. Il discorso verteva sulle prerogative che avrebbe o non avrebbe la regione sulla materia e su come può essere gestito il fenomeno. Ma quando uno attraversa il confine, mica nasce con la scritta sulla fronte sono un richiedente asilo? No, però ha l'obiettivo lì. No, certo che ha l'obiettivo lì, a parte che come dice lui, e in questo lo ammette, non tutti fanno quella strada e non tutti richiedono di ottenere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria. A sinistra si pensa così, che bisogna aprire i nostri confini e far passare tutti, noi pensiamo che bisogna contrastare in ogni modo. Ma al centro della polemica c'è un'altra questione. Il nome fototrappole richiama quelle utilizzate per gli animali e proprio questo ha prodotto reazioni del mondo politico e non solo. Il problema è che l'avete chiamato fototrappole. È un'altra cosa che mi ha fatto tanto sorridere e continuo a sorridere, perché la grande polemica probabilmente nasce proprio dal termine. Queste sono fototrappole. Le fototrappole vengono usate costantemente, per esempio per gli ecovandali, perché noi adesso ci siamo focalizzati sul termine fototrappole. L'obiettivo è quello di vedere oltre, di vedere cosa succede in Slovenia, di poter individuare il gruppo in arrivo già dal territorio sloveno. Però allora vede che le serve il volto. È questa la provocazione che io le volevo fare. Cioè che secondo me, alla fin fine, rintracciare quale sia il percorso fatto, certamente senz'altro. Ma allora la verità è che ci serve ricostruire che quella persona che poi si presenta in questura è quella che è passata di là perché corrisponde al volto o no. Ma no, ma questo non è il mio principale obiettivo. Semmai, questo spetterà la polizia, decidere se può servire anche l'immagine al fine di dimostrare che quella persona è arrivata da là. Questo lo deciderà, non spetta a me. Il compito che ha la regione in questo momento è di favorire in qualsiasi modo il lavoro delle forze dell'ordine della polizia di frontiere e dare degli strumenti. in qualsiasi modo il lavoro delle forze dell'ordine della polizia di frontiere